Vi presento due amiche di TV 2000, due volti ma soprattutto voci di Radio Capital. Betty Senatore e Silvia Mobili, grazie per essere con noi, buona mattina. Grazie a te. Perché da una passione personale e anche da tante telefonate che sono arrivate a Radio Capital ne è nata una rubrica che si chiama Ladies and Capital, una rubrica dedicata agli avanzi. Come funziona? Di cosa parlate? Il programma si chiama Ladies and Capital e va in onda tutte le mattine. All'interno noi abbiamo una rubrica che ormai va in onda da tanto tempo con il nostro chef Sergio Maria Teutonico perché diciamo che è lui l'artefice, cioè lui ci mette veramente le mani nella pinta. Ed è una fortuna, è lui che cucina. Noi guardiamo e assaggiamo eventualmente. Sia chiaro. Voi fate un gioco che è diventato un appuntamento fisso, state vedendo il sito internet e pensate che c'è una comunità di utenti così numerosa che esprime anche l'interesse verso questo tema. Lo faremo anche noi. Di che cosa si tratta? Ci chiamate al nostro numero verde 822 88 96. Ma prima aprite il frigo, guardate quello che c'è dentro. Io stesso ho portato da casa mia alcune cose. Quindi se mi vede mia moglie, tranquillo amore, si è sparito al latte, c'è un perché. Oppure ti chiede di fare la spesa, non lo so, ti vende dalla moglie. Quello sempre, io esco da qui che sto sempre in giacca, eccetera, che poi mi trovano al supermercato pieno di buste sotto il sole. Ma va bene così. È così. Quindi tre ingredienti e con questi tre ingredienti dentro il frigo voi che cosa fate? Noi nulla, grazie a Dio. Noi niente, noi sceglievamo di solito l'SMS con gli ingredienti più strani da assemblare e poi lanciavamo la sfida al nostro chef, a Sergio Maria Teutonico, che riusciva sempre, mai una volta che avesse fallito, è incredibile. E riusciva appunto a creare un piatto per riciclare, per fare in modo che comunque quello che era nel frigorifero non andasse buttato. Perché al di là della crisi che stiamo vivendo tutti, è proprio uno spreco e penso sia uno dei peccati maggiori e anche una mancanza di rispetto per quelle persone che non hanno cibo, che non hanno neanche un frigorifero. E questo lo faremo anche oggi, tra pochissimi minuti. Betty, è vero che tu non sei per una gran cuoca, anzi? Io lo dico, lo dichiaro. Infatti quando è venuto fuori il libro, tutti mi hanno chiesto, ma che le ricette sono tue? No, sia chiaro, le ricette le ha scritte, lo chef. Io sono un'esecutrice. Il problema sai che cosa? È che quando vivi da sola, da tanti anni, diventa un po'... Ecco la copertina. Ecco, infatti. Questo libro ha tre. Diciamo che passa un po' la voglia di mettersi là e cucinare, magari cose anche un po' complicate. Penso sia anche normale, molti si rivedranno in questa mia descrizione. Però la cosa importante è non sprecare. Nel libro io faccio un appello, vivendo da sola, per tutte quelle catene di supermercati che realizzano sì confezioni da single, ma con un packaging esagerato, magari anche un po' più care rispetto ad altre. Perché si paga la plastica. Si paga molto, però verrebbero incontro a noi evitando appunto tanti sprechi, perché poi magari si risparmi, compri due chili di pomodori che però non usi subito. Magari poi vanno a male e non sempre il maestro Sergio Maria Teutonico, come io lo chiamo, ci può venire incontro. Silvia, la sobrietà, l'attenzione a non sprecare l'hai respirata anche in famiglia, vero? L'ho respirata in famiglia, quando ero piccola ovviamente mi dava molto fastidio, perché mi toccava finire tutto quello che era nel piatto e ai miei tempi comunque si mangiava quello che c'era. Non è che io avessi il potere di dire a mia mamma, come io faccio per esempio a mio figlio che chiedo ogni giorno, cosa vuoi mangiare stasera a cena? E quindi lui decide il menù. A quei tempi quello che c'era c'era e spesso c'erano i miei odiatissimi spinaci, per cui potrei anche scrivere un libro per come mandare giù gli spinaci nonostante non ti piacciono. E quindi comunque appunto quando si è piccoli si è un po' costretti, però devo ringraziare mia madre proprio perché mi ha dato anche, mi ha insegnato l'importanza del cibo. E mi ricordo lei mi parlava di questi popoli africani che morivano di fame, quindi ero costretta a mangiare questo perché c'è il bambino africano che non mangia. E lì per lì pensavo che il bambino africano fosse fortunato perché non era costretto a mangiare gli spinaci. Poi ovviamente andando avanti con il tempo ho proprio capito e faccio la stessa cosa con mio figlio, con Riccardo che però io sono fortunata, lui mangia e il suo piatto preferito sono gli spinaci. No, è vero, un po' braccio di ferro. Devo dire che sono stata fortunata con lui perché è un bimbo che mangia tutto tutto quindi non ho sofferto come ha sofferto poverina mia madre. Voi non cucinate però se è diventato un pochino. No, io cucino. Tu si cucina anche bene. Sia chiaro. Anche bene? Bene non lo so però comunque cucino. Lo dico io. E mi piace anche tanto, lo trovo rilassante proprio quando posso cucino anche. Siete complementari a questo punto di vista che siete anche amiche quindi questa è una bella cosa. Le va a sbafo. Sì, si cucina. Mi faccio invitare spesso, devo dire mi fa piacere. Però siete diventate anche delle esperte da questo punto di vista quindi daremo insieme anche dei consigli su come è meglio anche congelare alcuni avanzi. Questo è un altro tema. Io infatti vado di pari passo con fratello congelatore e poi c'è il cugino microonde perché sono compagno mai di vita. Fra l'altro il nostro Sergio Maria Teutoni con il libro dà tanti suggerimenti che molti secondo me l'abbiamo visto anche quando abbiamo presentato il libro non sapevano a parte sulla differenza fra surgelare e congelare e poi come si scongelano i cibi che spesso magari uno prende e tira fuori la carne dal freezer e la mette fuori all'aria. non si ha mai, non si fa perché si rischiano poi delle contaminazioni. Il microonde diciamo che lui... Non gli piace questa parola. Sì, ecco. Ma bene, si ferma. Ti potrebbe scongelare. Sì, assolutamente. Non lo diciamo, fa tante cose. Sì, 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 è all'Espagna perché sta preparando dei tre ingredienti. Quindi alcuni consigli invece che vi sentite di dare, che ci segue a casa, che sono persone che ovviamente, anzi loro stessi ci insegnano molte cose, però qualche novità e qualche consiglio ulteriore è sempre buono secondo me anche da regalare. Qual è quello che vi sentite di dare più importante, dato che questa comunità veramente di ascoltatori dimostra di essere molto sensibile a questo tema. Io credo che la cosa in comune, il pensiero che abbiamo avuto in comune da subito è andare a fare la spesa già mangiati, tra virgolette, ma comunque non andare mai affamati perché all'improvviso hai voglia di cibi strani perché hai fame. Andate già, avete già mangiato anche abbastanza bene in modo che ho culati. E la lista, non fate come me che io ovviamente preparo sempre la lista della spesa e la dimentico a casa, però quello è un altro particolare. Voi la lista la preparate e la portate, vedete davvero quello che vi serve. E poi anche la grande distribuzione, perché negli ultimi anni chi è Massagna che viveva a casa lo sa, però si deve anche confrontare con un marketing che fa sì che certe cose si trovino non a caso proprio ad altezza di sguardo sugli scaffali di supermercati e casualmente sono le cose più costose, è vero? È vero, infatti bisognerebbe fare attenzione e guardare a destra rispetto al nostro punto di vista, di solito uno guarda a sinistra e lì vengono messi i prodotti più cari, oppure centralmente bisognerebbe guardare un po' più in alto, un po' più basso a destra anche, perché lì ci sono magari quei prodotti, quelle marche che potrebbero risultare più economiche. Comunque noi non abbiamo problemi, perché per via della nostra altezza vediamo sempre le cose più basse. Guardate, se ci mandate a fare la spesa a tutti voi noi vi facciamo veramente un buon servizio. Ma si può vivere bene risparmiando? Altro che, anzi io dico che alla fine ci si sente anche soddisfatti, sia orgogliosi di aver fatto una spesa, di non aver sprecato niente, di avere aiutato un po' l'economia domestica e poi sicuramente anche come dicevamo prima all'ambiente, evitando di buttare tanta plastica, tanto packaging inutile che poi finisce inevitabilmente nella spazzatura. E' brutto veramente buttare della spazzatura del cibo, è veramente davvero un peccato. Quindi magari quando lo fate pensateci e dite no, da domani cambio, si può fare. Si può fare. E' inutile che noi stiamo sempre a chiedere le cose agli altri, cominciamo da noi, no? Il cambiamento. E questa è una piccola cosa, ma secondo me se lo facessimo tutti. Non sarebbe per niente male. Allora, io direi, Betty e Silvia, di venire con me se avete voglia, perché io stesso mi sono messo un pochino in gioco e da casa... Il volante che hai rubato al frigo. Esatto, ho rubato qualcosa. Esatto. Allora, possiamo spostarci, lo facciamo. Venite, venite. Mentre saluto Sergio e Maria Teotonico, grazie per essere con noi. Ciao. Che bello. Allora. Ave Nestro. Executive Chef, insomma, mi metto tra voi, appassionato, poi parleremo anche di quanto hai fatto, cioè proprio voglio dire... Molto appassionato. Vedo, vedo, e questo è un complimento, perché poi assaggiando, no? E soprattutto quello. Allora, tre ingredienti, cari amici, chiamateci il primo che lo farà o che avrà i tre ingredienti più curiosi dentro il frigo per metterti alla prova e per replicare anche nel piccolo schermo insomma questa possibilità. Ma non la sapevo questa cosa. Mi dicono che sei preparatissimo. Ci provo, ci provo. Allora, io ho portato il latte anzitutto, perché l'ho trovato, fra l'altro ecco lo qui, non si rovina, insomma, l'avevo tenuto un pochino in frigo, ho tolto qui l'etichetta giustamente. Così non si riconosce. Mia moglie sarà felicissima oggi per la colazione, eh? Non ti preoccupare, ho lasciato un biglietto però. Poi ho preso la cannella, adesso non so se può essere una cosa, perché ce l'avevo lì per una torta e ho detto ma la buttiamo in mezzo, non lo so. Sì, sì, sì. E poi ho preso un po' di guanciale, a me piace molto fare la pasta alla grigia, eccetera. È un abbinamento. le note sempre un po' grasse con la cannella. Vogliamo provare? Vogliamo provare, dai, aiutatemi anche voi, eh? Come facciamo? Dovrei far cucinare? No, lo faccio io. Fai tu che è meglio? Ti serve, da dare qualcosa. Allora, proviamo, vediamo un po'. Intanto andiamo a prendere mai più di quel che serve, perché veramente lo spreco è la peggiore delle cose che si possano. Sì, come quando si tagliano tutti quei cubetti che poi restano sul piatto, no? Esatto, insomma, cerchiamo di essere, cerchiamo di essere parchi, ok? Quindi io vado a, l'unica cosa che faccio, cerco di dare una misura più o meno uguale. In questo modo, voi immaginatevi quando per radio queste due bellezze mi contattavano e mi dicevano, ok Sergio Maria, io già iniziavo a sudare. Sì, sì, sì. Oggi abbiamo latte, cannella e guanciale. Questa è semplice, abbiamo avuto delle sfide, no vai, no, abbiamo avuto delle sfide peggiori. La fortuna della radio, la fortuna della radio è che non si vede la faccia, perché a volte è l'espressione, è terrorizzata. Non è neanche dove sei. Allora, vado ad aggiungere il guanciale, adesso sfrigolerà perché qui è già caldo. È già bello caldo. È molto caldo. Eccolo qua. Lasciamo andare velocemente. Scusa, io ti passo l'avanti. Ma devi, no, non ti preoccupare, mi sposto di qua. Ecco, immediatamente iniziamo a sentire l'odore del guanciale. Adesso tutto lo studio inizierà a fare l'acquolina. L'acquolina in bocca, che dobbiamo fare? Per forza, poi mettiamo in mezzo. La gricia. La gricia, quanto mi piace, poi è leggera. Sì, sì. Per questo caso è l'ideale. L'importante è non farlo bruciare, perché altrimenti il grasso del guanciale stesso poi diventa acre e non ha più senso. Si vede anche dal colore, no? Esatto, allora io prendo del riso, in questo caso vedo che è il riso parboiled e quindi ti dico, quando devi fare il risotto o altre cotture di riso, non che questo non sia un buon riso, è ottimo, però è meglio usare altre varietà di riso che non siano trattate con questo procedimento. Quali consigli? Procedimento. Ma sicuramente per un buon risotto, un carne a roli, oppure un vialo enano, un Roma, ad esempio. E mai sciacquare il riso? Vabbè, lo vogliamo dire per tutti quelli che lo fanno, ma chi è che lo farà mai? Alcuni lo fanno. E mai sciacquare il riso? Il guanciale inizia a diventare più lucido. Allora a questo punto aggiungiamo il riso. Quanto riso? Un pugno della mia mano sono 70 grammi, quindi ci teniamo tra i 70 e gli 80 grammi, così anche il mio 20. Vabbè, non è colpa mia, se avete le manine piccole, ladies. Per questo tu sei chef, noi lavoriamo in radio. Allora, a questo punto, questo è parboiled e quindi non serve che tosti, ok? Però ugualmente lascio che il riso prenda il sapore del guanciale. Ecco, è molto... E non si aggiunge niente, no? È molto semplice. Aggiungo solo un po' di riso ancora perché voglio che poi nel piatto si vede. Un po' di cipolla, scalogno... Eh no, lui ha saccheggiato la dispensa della colazione, io mi attengo. No, perché sennò vi ho omogenizzati, ma noi siamo bella piccola, quindi non potevo mai. Sì, beh, tutto è buono. Sì, la mia vita, vai. Io avrei una domanda. Certo, lo chiedi. Perché lui teme le mie domande. Le domande di Becchi. Sono nel libro. Però sono scritte anche nel libro. Sempre ricordando Fratello Frigo e Cugino Microonde. E Cugino Microonde, che comunque fanno parte ormai della mia famiglia. Sergio Suda, sì, prego. Volevo sapere, quando si fa comunque il risotto, ora qui non abbiamo, ma si può aggiungere un po' di brodo vegetale? Si deve. Oppure del vino? Certo. Bianco? Allora, il risotto si divide in questa maniera. In generale, la cipolla che deve sudare, poi il condimento che si sceglie o che è quello, non importa. Il riso che va tostato, poi va sfumato con cosa? Può essere con del vino, con del brodo vegetale, il brodo di carino, il brodo di quello che ti pare. Con il latte, come andremo a fare tra pochi attimi. Dopodiché si aggiunge, si porta a cottura lentamente un mestolo dopo l'altro, con un liquido che sia bollente. In questo caso non serve perché il latte, se fosse troppo caldo, andrebbe a perdere un po' il suo gusto. Quindi si scaldala qui dentro, ecco, a questo punto ci si porta a cottura, poi si esegue la mantecatura con burro, non necessariamente con il formaggio, e via. Allora, il latte, ecco qua, ha preso un bel colore, ma tu guarda. E a questo punto. La sfida è anche, voglio dire, come risultato, è per te molto complicata perché ti trovi veramente ad armeggiare con ingredienti, poi mi dite le ricette più curiose, ma soprattutto nascono delle bellissime idee per chi ci segue a casa, no? Le ricette è lì su un momento. E questo non è l'esercizio di bravura dello chef che fa il suo mestiere da tanti anni. Questo è il buon padre di famiglia che, con quel poco che ha, cerca di tirar fuori il meglio che può. Questo è il senso e poi è anche il senso che hanno colto loro. Chef, io so che scrivi tanto, so che hai anche creato una palestra del cibo, ma che cos'è? La palestra del cibo è la mia scuola di cucina. Io e Flaviannella siamo i docenti di questa scuola, Emanuela Rossotto è l'angelo che ci coordi. Edina, veramente, nel vero senso della parola, perché tenerci a base non è facile. E loro hanno coniato lo slogan, il luogo laddove ci si allena alzando e abbassando la forchetta. È una scuola di cucina. Ne sono flessioni. Sì, le attore. Ma che cosa? Pensate tutti i muscoli della mandibola. Sì, masticare. Masticare. Non è una cosa semplice. Non è, non è facile. Poi devi mettere seduto per mangiare. Sì, è una vitaccia. Inizia a bollire il riso. Io a questo punto aggiungo un po' di cannella. Il sale non l'ho ancora messo. Lo metterò alla fine assaggiando se serve perché il guanciare è salato. È certo, giusto. Ok, guanciare, pancetta. Non ci sbagliamo. Vi vedo un bel gruppo affiatato. Questa è una bella cosa. Con ognuno ha un'anima diversa. Per fortuna. Chi è più esperto, chi è appassionato di cucina, chi insomma tra i vincili, tra i vincili, tra i cugini soliti, di forno a microonde e quant'altro. Lasciamo perdere. Però nascono anche le domande poi alla fine. È più semplice che, insomma, magari con le curiosità che qualcuno dà per scontato. Il meccanismo è questo. Allora, quando mi fanno le domande Silvia la preoccupazione diventa grande. Esperta. Perché sì, perché le sue domande sono insidiose. Allora, ho una domanda da farti. Infatti, sono tre le domande da quando lavoriamo insieme e ci conosciamo. Quando fai le domande Betti, dentro mi dico, mamma mia, ti prendo, ti prendo. Alcune sono assurde, lo confesso, ma voglio dire, non tutti sono esperti in cucina. No, per fortuna, se no noi non lavoreremo. Allora, ci vediamo tra poco per continuare insieme questa ricetta, continuare a parlare e poi con le telefonate di chi ci segue a casa. Per cui, eh, proviamo proprio tre ingredienti a cucinarli insieme. Grazie, siete bravissimi, eh. Cosa, Sergio, sei riuscito ad inventarti? Beh, allora, con queste piccole cose che hai portato, della cannera del latte, del guanciale, che cosa ho fatto? Ho fatto leggermente riscaldare il guanciale affinché rilasciassi un po' il suo olio. Vi ho tostato il riso, che in questo caso è un parboiled, però va bene qualsiasi altro riso. Scusate, ma il profumo della cannera è arrivare, sì, sì, anche qui. Anche il pepe del guanciale. Non ti preoccupare, intanto, insomma, c'era un bel po', poi abbiamo visto che ho utilizzato anche il latte. A questo punto ho aggiunto il latte che abbiamo lasciato un po' fuori frigo, quindi a temperatura ambiente, portato a cottura lentamente e ci siamo praticamente. Ma tu guarda, che meraviglia. Io intanto volevo chiedervi però dei suggerimenti, perché stiamo raccogliendo le telefonate a casa di chi ci sta dicendo, scegliendo tre cose, tre ingredienti che hanno nel loro frigorifero e poi a costaggio barretto tonico. Insomma, vi proporremo una ricetta da chef. A favore. Intanto si consigli invece su come scongelare correttamente i cibi, perché uno si fida tanto di quello che giustamente impara a casa e spesso è la cosa giusta, però c'è anche la chimica, c'è la possibilità che il cibo venga contaminato. La carne, per esempio, come va scongelata? Allora, innanzitutto, come il maestro mi ha insegnato, mi ha urlato, diciamo, e fai! Innanzitutto i cibi dentro il surgelatore, il congelatore, perché in casa noi abbiamo il congelatore, il surgelatore a livello industriale, non più di sei mesi. Vero? Ho imparato la lezione. Sì, ma sì, è stato fatto. Non vanno mai, come ho detto prima, presi dal congelatore e messi fuori. O, per esempio, scongelati sotto l'acqua, o direttamente in cottura, ma quello magari si può fare, neanche in cottura. No, va bene. Quindi vanno messi in frigo, bisogna avere pazienza. Quindi vanno messi in frigo e bisogna aspettare che si scongelino definitivamente, perché le temperature piano piano scendono e si evitano le contaminazioni batteriche e quindi poi si evitano spiacevoli inconvenienti. Inconvenienti. Allora, abbiamo la prima telefonata. Prima però, qualche secondo, Silvia, il trucco invece, il segreto per un genitore che ci guarda, un nonno che sta con noi stamattina, per far mangiare ai bambini quella verdura. C'è poco da fare a nascondere. La verdura va nascosta. Va nascosta. Io penso che... Eh, va bene. Stiamo parlando comunque di bimbi piccoli. Quindi, se non avete la fortuna di avere mio figlio, il cui piatto preferito è spinaci, non so da dove esca sto bambino. Meglio così. Meglio così. Comunque, io suggerisco sempre le polpette, nasconderle nelle polpette, nelle presenti, gustose e poi, appunto, giocarci anche con il cibo, perché giustamente un bambino di 5-6 anni che si vede questa mappazza di roba verde nel piatto, sì, buona noi che siamo consapevoli, che siamo adulti, ma un bambino ha anche bisogno magari delle forme, di giocare, di creare magari anche un viso, con le carotine. Con la carota, fare una macchinina, con gli stossicamenti. Una macchinina, ma anche una faccina, già una macchinina mi sembra un po' complicato. Diciamo una faccina, rendergliela anche più gustosa e cercare anche psicologicamente di avvicinare un bambino alla verdura con il sorriso nonna, dire stasera mangi la verdura perché sei stato cattivo. E qualcuno lo fa, ecco. No, mi prendo il giro della carota, io farei lunga, la taglio. No, io lo vorrei vedere, perché riesci a fare una piccola struttura. Io lascio un pochino senza motore. Il naso, se non è di carota. Avete una carota perché si vorrebbe le relazioni. E' un po' di nero. Guarda che me la procurano, sono terribili. Sì, sì, perché vorrei vedere. Mai dire queste cose. Mai dire, infatti, infatti. Allora, prima telespettatrice di oggi, Maria Grazia, da Roma al telefono. Pronto Maria Grazia? Pronto, buongiorno a tutti. Buongiorno. Che cos'hai oggi nel frigo? Ecco, grazie. Spero di essere aiutata che non ho voglia di uscire. Brava, infatti. Ti capisco. Bene, capisco. Ho un melano, due merluzzetti. Proprio in frigorifero, come avete detto voi. Perfetto. Poi ho delle patate e delle cipolle. Che cosa posso inventare? Merluzzi, patate e cipolle. Allora, Maria Grazia. Maria Grazia. Bene, allora, grazie intanto a me di questi ingredienti che sono facili. Di solito... Che betti potete creare qualcosa, se non esageriamo. Allora, prendi i merluzzi, falli scottare appena in un po' d'acqua, non troppa però, in modo che si lessino. Togli la pelle, vai a togliere la carne del merluzzo. Nella stessa acqua, t'entra le rische, mi raccomando, recupera e togli. Nella stessa acqua metti le patate che avrai tagliato a pezzetti piccoli, li fai bollire finché l'acqua non sia completamente ritirata e le patate saranno cotte. A quel punto, riaggiungi il merluzzo e lavori il tutto schiacciando leggermente. Prendi le cipolle, le fai rosolare appena, aggiungi, le metti su una terrina, come un letto, ci appoggi questo impasto di patate e merluzzo, metti in forno, sei qualche briciola di pane secco, un po' di pane, fai gratinare, fai un timballo di merluzzo, patate e cipolle. Fatto. Fantastico. Facciamo un bell'applauso perché neanche col gettone, veramente, è una cosa incredibile. Allora, ci vediamo tra poco, torno tra poco qui, così finiamo insieme la ricetta con qualche altro consiglio. Intanto, che succede Walter? Guardate le mani. Vediamo un po', ma no, non ci posso credere. È arrivata la carota, perfetto. Allora, io mi aspettavo che fosse un attimino più grande però, nel caso avrei fatto così, perché è tutta fantasia. Allora, avrei preso la carota e avrei fatto questa, diciamo, la punta della macchina, dopodiché, voi dite, c'è tanta fantasia. Attenzione, eh, attenzione che taglio le ruote, è tutto improvvisato, eh. Solo quelle, mi raccomando. C'è un tummista da qualche parte, eh, perché queste ruote, non so. È già lessa la carota però, è difficile. È già lessa, prenderei gli stuzzicadenti, guardate un po'. Vedete? È un seccarota però, è andata. Dai, magari un pochino più grande, perché se non ho tutta questa fatica. Guarda, ma dove ne avete preso le seccarota? E non lo so. Ma guarda che piatto da gran gourmet. Anzitutto, guarda cosa abbiamo creato. Nooo. La vostra strada, il casello, il pilotino, il pilota, qui davanti. Ma sì, sì. L'alettone della macchina. Abbiamo arricchito il tuo lavoro. Fabrizio, vieni a vedere, il nostro regista ha sposto il latte, così si vede meglio. Spesso, si vede meglio. Allora, questa è la pista, con l'alloro, ma fantastico. Il pilota, un po' verdogno, l'ho forse accorso troppo. Poi vedo... Un po' male. L'alettone? Sì, l'alettone della macchina. L'alettone chiamato Pachino, in termine tecnico. Fantastico. Bisogna trovare chi ha il coraggio di mangiare questa cosa dopo le varie manipolazioni e i toccamenti. E quello è il problema. Le luci. E le luci che sciogliono il tutto. E intanto mostriamo questo piatto meraviglioso con ingredienti così semplici trovati dentro il frigo di casa. Quindi guanciale, un po' di cannella, del riso, un po' di latte, una foglia di alloro che ho lucidato, sai come? Guarda. Come? Con il fondello del guanciale, passi. No, fantastico. E la fogliorina si lucida, quindi senza... Bisogna stare solo a fantasia. Ma questa me la rivendo a casa. Pensa che tu oggi hai preso il latte e... E torno con risotto. Torno con un risotto. Fantastico. Veramente. Facciamo un bel applauso perché... Bravo, maestro. È stato come sempre bravissimo. Come sempre bravissimo. Allora, da Gaeta. Simonetta. Simonetta, pronto? Buongiorno. Ciao, Simonetta. Buongiorno. Hai aperto il tuo frigo? Sì. Che hai trovato? Un cane, no? No, dico... Fa caldo, è qui, al fresco. È il mio canno di noi. È carino, scusa. Pardon. Cosa hai trovato? Sì, dentro il frigo. È il cane sempre. Che ingrediente hai scelto? Come si chiama il cagnolino? Vuole essere salutato. È doveroso un saluto. Si chiama Ari. Bari. Ari. 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 Perfetto, un nome... Allora, degli ingredienti che ci dici, Simonetta? Quali hai scelto? Quali hai a casa adesso? Quattro uova. Quattro uova. Del burro. Sì. E due fettine di carne. E due fettine di carne. C'è Ari che sta traducendo intanto gli ingredienti. C'è un errore. C'è? C'è un errore. Le uova erano nel frigo. Nel frigo. Dovremo. Sì, ma non le c'erano. Le uova nel frigo. Come vanno conservate? Beh, mostri. Io faccio così, sbaglio. Sbaglio. Al supermercato dove sono le uova? Hai ragione. Ah, è vero. Certo, non le lascerai a 40 gradi. Il resto d'estate, quando fa molto caldo... Certo. Ok, però nella normalità le metti nella dispensa di casa. Ho una domanda, scusate. Sì, io devo rispondere alla signora col cagnolino. Sì, velocemente. Perché allora ci sono nel frigo i porta uova? Lo so, ma ci sono anche i porta bibite dentro le macchine. Non è perché uno deve andare sempre col bicchierone di bibita. Il perché delle cose è imperscrutabile. A volte c'è e... E a volte no. Quindi fuori dal frigo le uova. Andrebbero. E con le uova della signora Simonetta che ci facciamo? Uova, burro? Beh, uova, burro e fettine di carne. Prendiamo le fettine di carne, sperando che non siano troppo piccole, le battiamo per bene con un batticarne in modo da allargarle. Nel frattempo lasciamo il burro da parte, anzi lo mettiamo in una padella, lo facciamo sciogliere appena smette di sfriggere, proprio nel momento in cui smette di fare le bollicine. Aggiungeremo le uova, soltanto i bianchi dell'uovo sbattuto, andremo a fare una sorta di frittatina. Poi prenderemo con questa frittatina, andremo a stenderla sopra le due fettine di carne, una vicina all'altra. Andremo a riarrotolare il tutto. Nella stessa padella dove abbiamo fatto la frittatina faremo cuocere la carne con calma, con calma, con calma a rosolare a tutti i lati. Dopo una decina di minuti sarà cotta. A parte avremo preso i rossi dell'uovo, li avremo lavorati, sbattuti, li aggiungeremo con un filino d'olio, poco, 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 un po' di sale, andremo a formare una sorta di salsa che ricorda un po' la maionese, in un certo senso. Andremo con quella a condire la carne e poi serviremo il tutto. Potrebbe essere un ideale. Sono basito! Basito! Veramente! Senza parole! Senza parole! Da Salerno, tre parole! Candida, per tre ingredienti nella sua cucina. Buongiorno, Candida! Buongiorno! 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 Allora, non dico apri il frigo perché poi non si esce fuori ma si ti opriva di tutto. Allora, cosa c'è però nella tua cucina di ingredienti adesso perché fa troppo caldo per uscire, stai bene a casa, insomma, vogliamo anche risparmiare e non buttare nulla. Cosa abbiamo da cucinare? Allora, ho le zucchine, cipolla, e patate. Zucchine e cipolla. Ho anche un po' di parmigiano. Ah, un po' di parmigiano. Beh, anche in questo caso fettine, fettine molto sottili. Possiamo, se abbiamo un po' d'olio, possiamo passare, tipo scapece, friggere il tutto, mettere in una ciotola, freddare con un filo di aceto, lasciare raffreddare. Dopodiché andiamo a prendere il parmigiano, lo mettiamo su un piatto, se abbiamo il microonde lasciamo che si sciolga e si formerà una specie di crosticina oppure in padella formeremo una crosta con questa crosta spezzata andremo poi a comporre un mille foglie di patate, parmigiano, zucchine e così via. andiamo a salire, salire, salire. Va bellissimo. È come se fosse scesa e fosse andata a comprare e portato di buono. No, veramente. Non spero, insomma. Un altro applauso, bravissimo. Sergio Maretto Tonico, un maestro. È un maestro, non a caso. Allora, le cose sono due, o vi chiamo ogni mattina oppure faccio prima ad ascoltare invece il vostro programma. Ricordiamo quando vengono su Radio Capital. Tutte le mattine, da lunedì al sabato dalle 10 a mezzogiorno. Esatto. Allora, Betty Senatore, Silvia, Mobili, Sergio Maretto Tonico, grazie, grazie anche al vostro libro per cui nelle vostre case possiamo portare veramente tanti modi diversi per non sprecare nulla. E noi mangiamo. E voi mangiate, va bene, grazie, grazie ancora, complimenti, grazie, grazie davvero.